Venge! Chi ore sono? È l'ora dell'eroe! Bantan! Si trasforma in dieci alieni, uno più forte dell'altro! Due per due! Acqua espruso! Rotolone! Diamante! Duzultra! Vite elastica! Puginione! Materia grigia! XLR8! Inferno! Lanciati in azione e combatti con Bantan! Che la giustizia diventi! Venge! Bantan! Personaggi da collezionare! Giochi preziosi! Segui la nuova serie in tv!